La valutazione di questo pareggio è stata una partita bella secondo il punto di vista perché le due squadre si sono spicchiate, nel senso che noi abbiamo accettato quello che era, l'abbiamo preparato anche bene, abbiamo accettato quello che era il gioco dell'Eventis, quindi uno contro uno, le ragazze hanno avuto molto, molto coraggio in questo e quindi diciamo che la strada di interpresa è quella giusta. Dobbiamo continuare a lavorare perché a differenza dell'Eventis, noi abbiamo tante giocatrici giovani e la Juve è già un gioco collaudato, quindi le giocatrici già collaudate, noi siamo una squadra abbastanza giovane ma nello stesso tempo abbiamo cambiato anche tanto, quindi diciamo che siamo ancora un cantiere aperto, ma se il cantiere aperto è questo io sono veramente felice perché insieme alla Juventus siamo la squadra che non ha ancora perso e oggi abbiamo interrotto la striscia positiva di vittoria della Juventus, quindi sono molto felice sia per me, per il mio staff, ma soprattutto per questa ragazza che ogni giorno ci fanno vedere delle cose, dei miglioramenti che sono davvero speciali per noi. Una curiosità, nel primo tempo vi abbiamo visto magari anche un pochino più attenti nella faccia offensiva, ma magari non dico un pochino più coperte però che avevate un pochino più difficoltà a creare tante azioni offensive, invece nella ripresa si è visto quasi che le azioni migliori del secondo tempo sono state quelle dell'Inter, a parte poi qualche calcio calzato. Siamo d'accordo su quello che hai detto, è stata preparata anche così, mi scusi se è così come più annuale. No, così no, dovevamo partire come siamo partiti al secondo tempo, alla fine del primo tempo vi ho detto alle ragazze che dovevano avere più coraggio e loro l'hanno avuto perché questa partita è piuttosto lenta per questo pareggio, poi ne è uscito un pareggio dove noi accettiamo anzi molto volentieri perché chi anche non avrebbe firmato prima della partita per un pareggio con la Juventus, quindi va bene così, noi il secondo tempo come hai detto abbiamo fatto davvero molto bene, è meglio della Juventus, mentre nel primo tempo sono d'accordo che la Juve ha fatto meglio di noi. Le faccio una domanda sulla crescita della squadra e sulle ambizioni, perché sono passate di qua Roma, Juventus e l'Inter non ha perso, anzi ha portato a casa due prestazioni molto positive. La prossima partita è con la Fiorentina, diciamo che sono queste le quattro squadre possiamo dirlo, che ambiscono in modo un po' più serio, almeno fino a questo momento da quello che si è visto il campionato, per la zona Champions, per cui le chiedo, prima di tutto quali sono le vostre ambizioni verso la gara con la Fiorentina, anche se in mezzo ci sarà una pausa con le nazionali che magari può scompiare qualcosa, ma anche cosa le sta piacendo di più della crescita della squadra e su cosa vuole lavorare anche in ottica di crescita della squadra? La cosa che mi piace di più è la crescita mentale, che queste ragazze si sono liberate un po' di testa e stanno facendo delle grandi prestazioni e lì si vede che prima magari erano un po' frenate, adesso si spingono in avanti, diciamo che anche i risultati aiutano, quello sicuramente. Per quanto riguarda la partita con la Fiorentina è normale che dobbiamo prepararla anche con i piccoli particolari, perché quelli piccoli particolari alla fine fanno sempre la differenza. Ho una fortuna di avere uno staff molto preparato, soprattutto anche per quanto riguarda il match analyst, quindi abbiamo due match analyst che studiano di giorno e di notte le squadre, poi ci sa benissimo che non basta quello perché magari attacchi 90 minuti, prendi un calcio d'angolo, prendi i gol e perdi la partita. Però è molto importante avere a disposizione dei ragazzi che ti danno un supporto ulteriore. Per quanto riguarda le ambizioni è normale che noi cerchiamo di continuare il nostro percorso. Qua la società non mette pressioni, mi ha detto lavora sul percorso di crescita delle ragazze e dopo logicamente se riusciamo a centrare la Champions per noi sarebbe una cosa fantastica. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze, quello è sicuro. Un po' ho anticipato la domanda che le volevo fare, quanto si sente migliorato in questo suo percorso professionale. Io personalmente? Tanto. Tanto perché le ragazze, io magari trasmetto qualcosa di campo, però magari le ragazze trasmettono qualcosa a livello esterno e tutto insieme secondo me crea empatia e questa empatia si vede dal risultato di oggi, si vede dalla crescita di qualche ragazza. Poi è normale che ci sono delle ragazze che in questo momento stanno giocando un po' meno, ma se andate a vedere le formazioni io cambio sempre 3-4 giocatrici nelle partite oggi addirittura contro la Juventus, 5 giocatrici, abbiamo fatto esordire una ragazza Diaz che è una 2004, che è arrivata 20 giorni fa, che poi in 20 giorni è riuscita a imparare italiano, anche questo è una cosa molto molto importante e quindi dobbiamo continuare su questa strada perché credimi, dalla parte di qua io da allenatore sono veramente molto molto felice e orgoglioso di allenare queste ragazze. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.